Salve, sono Roberto Bianco, amministratore delegato della ICAM, azienda che da oltre 60 anni progetta e produce sistemi automatici per lo stoccaggio, la distribuzione e la vendita. Con il Covid tutto il mondo si è fermato e noi abbiamo deciso di riprendere sulla linea in cui abbiamo sempre lavorato ed è quello dell'innovazione. Stiamo presentando quindi Safebox, un prodotto assolutamente innovativo per la distribuzione di materiali, dpi, merci e quant'altro self-service 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ricominciamo quindi con le aziende del commercio edile a cui Safebox può essere un ottimo strumento per la distribuzione e la vendita di materiali direttamente in cantiere o direttamente presso le aziende. Quindi con la possibilità di avere un controllo remoto di questi materiali e quindi il ripristino dei materiali quando vanno sotto scorta e al tempo stesso di garantire tutti i servizi di digitalizzazione tipici dell'industria 4.0 per chi fa il prelievo di dpi, piuttosto che il controllo di strumenti e ogni altra attrezzatura che Safebox permette di controllare uno ad uno. È tutto secondo la logica del Contact Free, quindi sicurezza evitando il contatto tra le persone.